Deci dare chi ci rappresenta dentro la regione Puglia a darci delle risposte, siamo qua, aspettiamo le risposte di due assessorati, gentilmente, siamo tanti, aspettiamo delle risposte e siamo cittadini italiani e per questo vi dedichiamo l'inno di Mameli. Nell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria che porta la chioma, che scavò di Roma, di Dio la prevedeò. Nell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria che porta la chioma, che scavò di Roma, di Dio la prevedeò. Si ciancia a morte, sia pronti alla 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 morte. La manifestazione di oggi del personale ISPE, Lecce, che sono venuti qua a manifestare le preoccupazioni per un futuro lavorativo incerto. Da più parti è stata chiesta la revoca del bando, lo chiediamo anche noi come sindacato Cobas. Siamo al fianco dei lavoratori dal primo momento e speriamo e chiediamo alla regione la revoca del bando per 58 famiglie che possano continuare a lavorare tranquillamente come hanno fatto per gli ultimi vent'anni. Per questo noi chiediamo alla regione la revoca del bando.